Buongiorno, sono Ginevra Gamba e frequento il secondo anno del corso Logistica e Trasporti 4.0 dell'ITS Last Academy. In questo breve video racconterò come l'e-commerce sta crescendo sempre di più in tutto il mondo, in particolare in un momento difficile come quello che stiamo affrontando. L'emergenza coronavirus e le misure imposte per marginarla stanno portando ad un cambiamento nelle nostre abitudini, comprese quelle riguardanti l'acquisto dei prodotti di prima necessità. È stato riscontrato un incremento dell'80% di acquisti online in un periodo a cavallo tra febbraio e marzo del 2020 rispetto allo scorso anno. Molti commercianti infatti si sono dovuti cimentare nella creazione e nella gestione delle proprie piattaforme e-commerce per portare avanti la loro attività di vendita. Questo investimento potrebbe rivelarsi una vera strategia vincente, rimanendo poi uno strumento ugualmente funzionale in un'ottica più a lungo termine. Esso permette di proporsi ad un pubblico globale e di minimizzare le spese connesse alla struttura del negozio e del magazzino. Ovviamente questo cambiamento presuppone un sostegno da parte degli operatori logistici che per gestire l'aumento delle consegne a domicilio dovranno dotarsi di maggiori strutture per lo smestamento merci, di mezzi e di personale. Da questa situazione negativa si possono trarre dei benefici in previsione di un futuro sempre più digitale e globalizzato.